Il Festival Giallo Garda è una realtà ormai consolidata nel panorama delle organizzazioni che curano premi letterari nella nostra provincia. È attiva, come dice il nome, nei comuni del Lago di Garda, ma ormai la sua notorietà è nazionale, per non dire internazionale. Da otto anni organizza un premio letterario aperto alla letteratura gialla nella sua più ampia accezione, il giallo, il noir e tutte le manifestazioni del crime. Premio che ogni anno nella sua cerimonia finale che si svolge fino all'anno scorso, nella prima da quest'anno nella seconda settimana di ottobre, conferisce dei menzioni e segnalazioni e premi a romanzi editi, sempre naturalmente nel settore giallo, a romanzi inediti. Noi diamo anche la possibilità agli scrittori di presentarci dei testi inediti, con delle sezioni collaterali che da qualche tempo abbiamo aperto, la letteratura per ragazzi, una letteratura gialla per ragazzi che spesso riserva delle sorprese con testi che si rivelano qualche volta pieni di significati diretti anche agli adulti, e da almeno un paio d'anni con una sezione apposita dedicata ai libri stranieri tradotti in Italia. Il loro numero sempre crescente ci ha convinto dell'opportunità di prevedere un premio speciale per questa sezione. Il Festival Giallo Garda però non è soltanto un concorso letterario che occupa comunque una parte considerevole dell'anno perché noi da febbraio a maggio circa riceviamo le opere concorrenti e poi c'è tutta un'opera di selezione affidata alla giuria che ho il compito di presiedere in questo momento. È anche una serie di iniziative più ampie tendenti a far conoscere ai lettori le manifestazioni più interessanti, più attuali e più evolutive del giallo e non solo del giallo perché ci allarghiamo anche ad altri campi con presentazioni di libri ma anche soprattutto iniziative convennistiche in vari luoghi della provincia che ci consentono di presentare le realtà emergenti e anche le tematiche toccate da queste realtà letterarie. A questo proposito una dell'iniziativa più prossima in questo senso è il convegno donne in movimento. Si tratta di un'iniziativa in realtà che reitera qualcosa che abbiamo già fatto l'anno scorso. Da due anni ormai ci interessiamo al fenomeno della letteratura al femminile sia per quanto riguarda le autrici, cioè la letteratura come nel senso di persone, di donne che scrivono, di donne che si impegnano in questa attività, sia nel senso delle tematiche interessanti per il mondo femminile che queste pubblicazioni, questi libri trattano. Il convegno donne in movimento vuole rappresentare proprio questo, una fotografia o se si vuole un film di quella che attualmente è la realtà dell'editoria al femminile e delle tematiche che vengono trattate con particolare riguardo ai fenomeni più attuali della nostra epoca come la violenza di genere, ma anche più in generale quello che è il mondo del femminile come viene rappresentato. La prossima edizione di questo convegno, prossima veramente perché ormai è questione di settimane, si terrà il 18 e il 19 marzo nella sede dell'hotel West Garda di Padenghe, Padenghe sul Garda, che ormai da qualche tempo è la sede delle nostre iniziative, è anche il luogo dove si svolge la premiazione finale del festival ed è diventato ormai anche spazio di convegno per le nostre iniziative. Quest'anno il convegno donne in movimento rappresenta ancora una volta l'estrema varietà delle nostre iniziative su questo tema generale, perché vedrà la presenza non solo di scrittori come Olivia Crozio, come Nicola Lucchi, come Alessandra Albertini e Marisa Salabelle, che tratteranno tutti, presenteranno le loro ultime opere in tema femminile, ma tratterà anche di tematiche viste dal punto di vista sociale e operativo, come per esempio una lezione che si terrà nella prima giornata del convegno, nel pomeriggio del 18 marzo, sui protocolli operativi nazionali e internazionali contro la violenza di genere. Noi vogliamo anche vedere, approfondire come queste realtà vengono affrontate, come vengono valutate dalle autorità. E poi ci saranno anche interventi di tipo più strettamente, come dire, saggistico, nel senso non solo della realtà letteraria, ma la realtà di studio. Avremo Nicola Lucchi che ci parlerà per esempio della figura della donna nell'industria cinematografica. Da qualche tempo i nostri interessi si sono estesi anche alla dimensione più generale dei mezzi di comunicazione, quindi non solo la letteratura, ma anche il cinema e le rappresentazioni delle arti visive. La mattina del 19 marzo, sempre in tema saggistico, ci sarà la presentazione di un mio libro casualmente, nel senso che da qualche tempo io personalmente mi dedico alla saggistica sul giallo e sulle origini, gli sviluppi, le caratteristiche di questo genere. Il mio ultimo libro è dedicato alle origini del giallo al femminile, cioè come le donne hanno partecipato alla creazione del giallo e alla rivoluzione, sia come autrici, sia anche nelle figure dei personaggi investigativi, e questo sarà uno degli argomenti con cui si aprirà la seconda giornata. Così come l'intero pomeriggio del convegno sarà dedicato, per esempio, a tutto il tema della body positivity e quindi anche della dimensione della donna nella sua dimensione corporea. In questo senso, per esempio, avremo manifestazione, dimostrazione dell'interesse del Festival Gelugarda, anche per mezzi espressivi diversi da quelli strettamente letterari, la presentazione di una graphic novel tettonica che sarà affidata a Sofia Assirelli, che è nota per essere una delle consceneggiatrici, e parliamo sempre di giallo, dello sceneggiato La Porta Rossa, che è stato uno sceneggiato di notevole successo. Così come la chiusura del convegno sarà affidata ad Aldo Dallavecchia. Aldo Dallavecchia è uno scrittore collaboratore però nel campo della televisione e del cinema, che ha una vastissima esperienza, una profonda erudizione, nello studio dei personaggi femminili di questo campo e in questo caso ci offrirà un omaggio a Raffaella Carrà, recentemente scomparsa, e alla sua dimensione di donna nel mondo dello spettacolo. Ecco, naturalmente spero di avere in questo modo suscitato l'interesse di chi mi ascolta su questa iniziativa, quindi invito tutte le persone interessate, che comunque vogliono sapere di più e di queste tematiche e delle attività del festival, a venirci a trovare in questo convegno. L'apertura è assolutamente libera, lo ripeto, dal pomeriggio del 18 marzo, i lavori inizieranno alle 14.45 e il giorno successivo, la domenica 19 marzo, al hotel West Garda di Padenge sul Garda.